Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere la seconda parte riguardo ai miei profumi Avon femminili che ho testato per un po' di tempo e voglio parlarvene più nel dettaglio. Ci tenevo a ringraziarvi perché siamo arrivati a più di 1000 iscritti. Per me questo era un traguardo quasi inarrivabile fino a qualche mese fa e finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi grazie mille, grazie di cuore, grazie a tutti voi che mi seguite con affetto. E partiamo subito. Allora, il primo profumo che voglio farvi vedere è Incandessence, il classico. Lo trovate ancora sul catalogo Avon, sta intorno ai 14,95 e lo trovate ancora adesso. E è uno de parfum da 50 ml, questo è il pack. È carinissimo, veramente carino. Qui sotto c'è disegnato il sole, ce n'è ancora un pochino ma non esce più. E è un profumo buonissimo che io ho utilizzato per un po' di tempo ma che poi ho accantonato perché è un profumo molto femminile, quindi non è un profumo androgino, si sente proprio che è da donna. Quindi l'ho utilizzato per 10-15 giorni, poi l'ho voluto regalare ad una mia amica che ha apprezzato tantissimo. Dunque, vi parlo delle note, vediamo qui Fragrantica che dice, io ho scaricato le note da Fragrantica ovviamente. Dunque, note di testa, Orchidea, Mughetto e Ciclamino, note di cuore, Turipane e Peonial, nota di base è Orchidea. Allora, io non lo sento completamente floreale, lo sento che in apertura c'è anche una nota molto frizzante, come fosse un agrume. Vediamo un po' sulla scatola che dice, perché Fragrantica ogni tanto le note non si esatto le legge. Ah, ecco infatti, note frizzanti di bergamotto, splendente rosa e vellutati a cordi muschiati. Ecco, questa è una descrizione che ci assomiglia di più. Quindi, appena spruzzato, è un profumo che sprigiona una forte componente agrumata, quindi si sente proprio questa botta rinvigorente di bergamotto. Sul cuore sentiamo dei sentori floreali e sul fondo si sente il muschio. E delle note floreali, è un profumo con una persistenza stratosferica, che io vedo su donne dai 30 anni in su, perché comunque è un profumo molto importante, cioè uno di quei profumoni floreali belli, forti, che durano da mattina a sera. E lo vedo appunto su una donna, perché su una ragazzina mi sembra un po' forzato, lasciatemi passare il termine, perché appunto è un profumo bello importante, lo vedrai bene sia la mattina che la sera. Quindi veramente consigliato, veramente consigliato. Qui l'avevo spruzzato tempo fa per ricordarmi la fragranza, e si sente molto questa nota di agrumi, anche si sente un fiore sul fondo. Veramente buonissimo. E questo è molto simile a J'adore di Dior. La differenza tra J'adore e questo è che questo è un po' più frizzante rispetto allo J'adore, che invece rimane più rotondo e caldo, ma questo io sinceramente lo preferisco, perché è più originale, soprattutto quando lo applicate di mattina vi proprio sveglia, perché ha questi agrumi in apertura, è veramente buono. Poi, secondo profumo che vi faccio vedere è il Pur Blanca Smile, anche questo l'ho utilizzato per un mesetto, ma anche questo, ahimè, si sente molto che è da donna. Questo mi sembra sia uscito nel 2017, vi leggo le note. Di questo non trovo più la scatola, non mi ricordo dove l'ho afficcata comunque. Allora, vediamo un po'. Pur Blanca Smile è una fragranza del gruppo Floreale Fruttato da Donna, questo è il pack, ecco, è sul color salmone, del 2017. Le note di testa sono agrumi, pesca e pera, io sento più che altro la pesca. Sì, sento un odore fruttato dolce, quindi gli agrumi io non li sento per niente. Poi le note di cuore, magnolia, peonia e rosa, e io sento la peonia e la magnolia, che anche la magnolia ha un odore molto forte, bello, strong, ha anche un pelino agrumato, ma proprio un pelino. E poi le note di base sono paciuli, muschio e vaniglia. La vaniglia la sento poco e niente. Io sento più che altro il muschio, il paciuli non lo sento per niente. E questo è un profumo che mi pare di aver pagato intorno ai 10 euro, ma non credo che lo facciano più. È un profumo che io vedo sia sulle donne, ma anche sulle ragazzine, perché è un po' più sbarazzino, è un po' più, diciamo, facile da portare come profumo. È un profumo che vedo soprattutto in primavera, estate. Diciamo, in autunno no, perché secondo me ricorda troppo i profumi primaverili ed estivi. Quindi è un profumo fresco, non impegnativo, da utilizzare anche tutti i giorni. Perché no? Perché non è un profumone tipo incandessence, che comunque vi inebria, vi accompagna e lascia la scia. La scia di questo profumo è molto lieve e dura sulle tre ore. Adesso non mi ricordo se lo trovate ancora in catalogo. E anche questo l'avevo utilizzato un po' e regalato ad una mia amica. E l'ha finito lei. Cosa dirvi? È uno dei tanti profumi Avon. Sapete, Avon fa, diciamo, i profumi storici di Avon. Sono tutti diversi tra loro, molto persistenti, buonissimi a mio avviso. E c'era anche una sorta di ricerca un po' più approfondita sullo studio del lancio di quei profumi. Invece adesso, ultimamente, Avon prende una fragranza, la mette in tre o quattro pack diversi e lancia. Cioè, è uscito questo profumo, è uscito quel profumo, li compari e sono esattamente identici. Questo è uno di quei profumi floreali, fruttati, di Avon, semplici, senza infamia e senza lode. Poi, altro profumo che vi faccio vedere è il L'Energy Fusion. E è un 50 ml o The Toilette. Allora, questo qui, il pack è questo, molto carino. C'era anche quello da uomo. Ecco, questo è il classico esempio di come Avon cambia i pack dei profumi e te li spaccia per profumi nuovi. Vediamo un po', vi leggo le note. È un profumo lanciato nel 2016. La fragranza contiene note di pompelmo rosa, gelsomino e geranio. Vediamo invece sulla scatola che cosa dice. Note di pompelmo e pescanoce, combinate con il dinamico aroma di peonia e gelsomino, in perfetta armonia, travolgente con il palissandro e golosa vaniglia. Fondamentalmente, detto in due parole, questo è il dupe di Pur Blanca di Avon. Infatti, quando l'ho spruzzato, vedete che ne ho usato pochissimo perché lo voglio utilizzare con la bella stagione, perché sì, è un profumo femminile, ma rispetto agli altri due è meno floreale e è più aggrumato. Quindi, in apertura si sente il pompelmo rosa, quindi una nota frizzante, un po' acidula, che è rinvigorente. Nel cuore si sente il gelsomino, quindi, diciamo, dopo una mezz'oretta che avete spruzzato il profumo, come si assesta sulla pelle, ricorda un po' Alien, per via del gelsomino Samba, che poi nel fondo c'è il muschio, quindi è un profumo floreale, ma io direi che più che floreale, è un profumo aggrumato e muschiato. Lo consiglio anche per le ragazzine, diciamo che lo vedrai bene dai 15 anni in su, perché non è un profumo soffocante, è un profumo leggero, un profumo da portare tutti i giorni, che dura 3 o 4 ore, vi dicevo che è proprio il dupe di Pur Blanca, il classico. Infatti lo spruzzavo, dico, ma sto profumo mi ricorda qualcosa, sto profumo mi ricorda qualcosa. Vado a casa di mia mamma e mia sorella aveva Pur Blanca in cameretta, io ho il vizio di annusare tutto quello che mi capita sotto mano, dai detersivi ai profumi alle creme, qualsiasi cosa, e quando hanno usato Pur Blanca ho detto, ah ecco, ecco che era. Non so perché Avon continui a fare queste cose, non lo so, ma comunque questo costava, mi sembra, sui 7-8 euro in offerta, a prezzo pieno forse 12-13, adesso non ricordo benissimo. E sì, ve lo consiglio soprattutto per le ragazzine. Mi sembra di averlo visto su Notino e costa veramente una cavolata. Quando non trovate più prodotti di Avon sul catalogo, è controproducente per i miei ordini, ma vi consiglio di andare a spulciare sul sito Notino perché molto spesso ha delle rimanenze che magari Avon ha tolto da un anno, un anno e mezzo, per quanto riguarda sia la skincare, sia per i profumi, sia per tutto il resto. Ha un bell'assortimento, quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata. Poi, altro profumo che io ho amato alla follia è questo qui, si chiama Today, Tomorrow, Always, Absolute. Dunque, vi faccio vedere il pack che è carinissimo, me ne sono innamorato immediatamente. Guardate quanto è bello. Sembra un profumo, diciamo, di lusso. Mamma mia che è sto profumo, è veramente buonissimo. Allora, la prima volta che ho provato questo profumo, c'era il catalogo dove bisogna sfregare il polso e si sentivano le note. Avendo io il catalogo di due campagne successive a quella corrente, ho avuto l'opportunità di prendermelo in anteprima e non me lo sono fatto scappare, mi pare di averlo pagato intorno ai 13 euro sul catalogo per te. È un 30 ml eau de parfum intense. Questo è un profumo che ha una durata di 15 ore. Lavate i panni riesce fuori. Non so se lo potete più trovare, non mi ricordo. Vediamo un po'. È un profumo del gruppo orientale floreale da donna. È stato lanciato sul mercato nel 2016. La nota di testa è Bergamotto di Calabria. La nota di cuore è fiore d'arancia e la nota di base è Sandalo. No, io non mi ci ritrovo con questa descrizione. Vediamo sempre dalla scatola se dice qualcosa. Penso che dalla prossima volta le note da Fragrantica non le scarico più perché tanto non ci azzeccano. No, non lo dice. Comunque quello che sento io in apertura è un profumo floreale e orientale. Io il Bergamotto non lo sento proprio. Io sento un sentore floreale ed orientale molto particolare. Cioè è un profumo particolarissimo perché sembra un profumo leggermente fumé. A me ricorda, questo profumo mi ricorda un po'. Angel de Mon di Givenchy. Quello è un profumo che a me mi manda fuori di testa. Ovviamente è un profumo da donna. Ma non escludo di prendermelo anche io perché è un profumo che mi fa proprio sognare. Quando lo spruzzate si sente questo profumo orientale un po' oscuro. Poi si trasforma e si sente la vaniglia e si ritrasforma ancora. È un profumo meraviglioso. Io prima o poi quello me lo prendo perché ce l'ho qua da almeno 4-5 anni. Anzi forse 10 anni perché mi ricordo che quando lavoravo in profumeria me lo spruzzavo continuamente. E comunque mi ricorda un po' quel profumo. Quindi è un profumo misterioso. Floreale. Ha anche un sentore... Sembra un po' bruciacchiato. Tipo un legno bruciacchiato. Su un fondo floreale è buonissimo. Cioè non lo posso descrivere questo profumo. Dovete assolutamente sentirlo se vi capita. Se Avan lo fa ancora. E questo è super consigliato. Mi pare che costasse intorno ai 22-23 euro forse in offerta. Ma è un profumo di tutto rispetto. Mamma mia questo profumo è proprio una bomba. Dulcis in fondo passiamo alla trilogia dei Secret Fantasy. Abbiamo il Secret Fantasy Midnight. Il Secret Fantasy Wonderland. Questo qui. E poi il Secret Fantasy Classico. Allora il classico lo lascio per ultimo perché mi è accaduto e si è scatafasciato per terra. E mi si è rotto l'erogatore. Quindi sta a perdere da me tutto. Parto dal Wonderland. Sono tutti e tre dei 50 ml eau de toilette. Il pack è carinissimo. Molto carino. Vedete con questo ciondolino ricorda non lo so un cerchietto ecco. Questi li ho presi due o tre anni fa e li ho lasciati nello sgabbuzzino proprio perché sto cercando di smaltire tutti i profumi sia di Avon che non. Vi leggo le note. Abbiamo Sambuco, Frangipane e Panna Montata. Io la Panna Montata non la sento proprio. Io sento un profumo floreale piuttosto pulito. Questo è a differenza del Today Tomorrow Always Intense. Absolute quello che vi ho fatto vedere prima. È un profumo anzi è una trilogia di profumi che io consiglio per le ragazzine. Magari per le ragazzine che vanno alle medie o alle superiori. Quindi diciamo che lo vedo bene dai 15 anni ai 35 anche 40. Sono dei profumini che non durano tantissimo. Siamo sulle due o tre ore ma sono comunque degli eau de toilette che costano una cavolata. Niente di che non è che mi abbiano fatto impazzire. Questi li utilizzo magari quando arriverà la primavera perché è un floreale. È anche questo piuttosto pulito quindi molto leggero e lo utilizzerò al lavoro quando voglio ridarmi uno scossone di benessere. Li consiglio alle ragazzine ma se cercate un profumo persistente o comunque un profumo originale questo assolutamente lasciatelo perde. Poi abbiamo il Secret Fantasy Midnight anche questo 50 ml o de toilette. Forse lo potete trovare sui cataloghi outlet ho fatto anche dei video al riguardo se volete spulciate sul canale. Il pack di questo è ancora più carino. È un viola blu e ha il ciondolino con la luna. Guardate che carino veramente carino. Sono carini i pack solo che non durano tanto i profumi. Questo mi piace, mi piace. Anche questo per una ragazzina lo vedo sempre dai 15 anni ai 35-40. E vi leggo le note. Abbiamo, allora, è una fragranza di Sonia Constant lanciata sul mercato nel 2014. Le note di testa sono prugna, marena e melograno. E io sento la prugna e il melograno. Si sentono delle note fruttate e dolci, quindi sì. Poi abbiamo note di cuore, note floreali. Non si sa quali note. Le note di base sono note legnose, ambra e muschio. Io sento più che altro il muschio. E l'ambra molto lieve. Quindi anche come l'altro Secret Fantasy è un profumo molto leggero. Forse questo dura un pochino di più rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. È comunque un profumo fruttato e floreale. Niente di che. Per le ragazzine lo consiglio. Magari se volete un profumo da utilizzare tutti i giorni. Anche per le donne un po' più grandi, diciamo. È un profumo, un profumino tranquillo. Ecco i soliti profumi floreali che se ne trovano ovunque in giro. Lo consiglio, sì. Insomma, sappiate che non è un profumone tipo il Far Away, tipo il Red Pearls. Sono profumini molto così tranquilli. Ultimo profumo che vi voglio far vedere è il Secret Fantasy. E questo qui. Vi faccio vedere il pack, ma sicuramente perderà la peccato. Mi si è staccato, ecco. Ecco, vedete, mi si è staccato l'erogatore. Non so neanche come abbia fatto perché sta in un armadio, nello sgabuzzino, dritto, con tutti gli altri profumi. Ecco qui il pack che è veramente carinissimo. Sembra una mela. Ma me sta perdita per tutto. Vi leggo le note. Allora, è un profumo lanciato nel 2010. È un floreale fruttato da donna. Le note di testa sono mela, fragola e note acquatiche e ananas. Io sento la fragola e le note acquatiche. Le note di cuore sono gelsomeno, rillà e fresia. Io sento la fresia, è molto forte la sento la fresia. Quindi un odore floreale, un secco, un po' pungente. Mi piace, sì. Le note di base sono sandalo, ambra e muschio bianco. Io quello che sento soprattutto è il muschio bianco. Quindi anche questo, un profumo, un profumino, diciamo così. Forse questo persiste di più degli altri due. Lo poggio perché, guardate, sta andando da per tutto. Un po' più persistente rispetto agli altri due, ma comunque è un profumo molto semplice. Quindi se lo volete comprare, sappiate a cosa andate incontro. È buono, sì, ma niente di che, ecco. Comunque, questi sono i profumi che volevo mostrarvi in questa seconda recensione riguardo i profumi Avon. Ne ho altri, ma devo testarli per dirvi un po' più precisamente come si comportano, come evolvono nell'arco delle ore. Ma soprattutto voglio darmi una mia personale opinione. Ovviamente poi sapete che i profumi cambiano in base a tante cose. In base al calore della pelle, in base al clima dove abitate, in base alla temperatura corporea, in base al pH di pelle. Vi faccio un esempio. Se prendete farmaci, molto probabilmente, soprattutto succede con gli antibiotici, molto probabilmente il profumo cambierà sulla pelle. Quindi cambia proprio l'evoluzione. Comunque, spero di esservi stato d'aiuto. Fatemi sapere se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti. Io vi ringrazio ancora per le iscrizioni. Anzi, se non l'avete ancora fatto, cliccate di sotto con il ditino sul tasto Iscriviti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.